La Camera ha provo. Prego i colleghi di togliere immediatamente i cartelli che stanno esponendo. Comunico che sarà iscritta l'ordine al giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge della quale la sott'indicata condizione che era stata assegnata in sede referente ha chiesto con le prescritte condizioni di trasferimento alla sede legislativa.